ciao a tutti amici fra miscinerd benvenuti in questo nuovo video su modern strike che è il primo di cinque giochi che andrete a vedere perché è un appena muoio stacco su cinque giochi ridicoli che stanno dicendo addio al canale essendo un appena muoio stacco ovviamente sono solo sparatutto e non ci saranno altri giochi ridicoli come guento o clash royale perché non si può morire e sostanzialmente il mio obiettivo è avere un kill rato superiore al termine del video del 2.0 quindi fare più di 10 kill il vostro obiettivo è andare nei commenti e votare a secondo le modalità scritte nel mio primo commento messo in alto il gioco secondo voi più ridicolo dei cinque proposti che andrete scoprendo durante il video sappiamo tutti quale vincerà non importa ma voi lo fate ora qua ho sbloccato due armi inedite fatte apposta per questo video che sono le f2000 e le deserti gol doppie tanto morirò prima di usarle probabilmente perché appunto scoprirete perché comunque secondo me il modo in cui morirò in questi cinque giochi la diranno lunga su quanto è ridicolo il gioco non so come questa sensazione direi di iniziare con un deathmatch a squadre speriamo di trovare la mappa decente perché il gioco è stato modificato pesantemente ma la tamba anche figo e la grafica è stata bustata tantissimo infatti il telefono non mi va più a scatti infatti vedrete che andrò a scatti e appena iniziata la partita perfetto magari la facciamo tutta rimanendo in vita scherzo comunque poi direte non era un gioco ridicolo questo infatti non lo era lo è lo è diventato e infatti guardato il 595 di vita e 165 di corazza ditemi voi che senso ha era nato come modern warfare per cellulare ed è diventato a parte che assist vabbè lasciamo perdere 332 di vita ok potremmo usare una siringa vediamo se mi dà la vita che avevo prima a parte che scappa in un modo l'hud è migliorato così come la grafica ma il gioco è diventato ingiocabile la grafica è migliorata molto comunque si vede ma adesso boh vabbè faccio un tizio ma che stanno facendo qua la lancia anch'io la granata tranquilli la lancia anch'io cioè guardate non fanno più nulla le granate lì c'erano cinque persone colpo la testa incredibile lì c'erano cinque persone lanciato una granata ha fatto 5 solletichi pazzesco eh ok camperiamo allora vi dico che è ingiocabile questo gioco adesso non so perché è divertente perché sono giocati via le scale ok ma non è divertente guardate su qui è riuscito a salire perché nessuno gli ha sparato siamo due kill cazzo incredibile non me l'aspettavo no perché diventa ingiocabile non so se rendo l'idea ho fatto due kill con l'fm 2000 voglio usare l'esertigolo adesso ho detto voglio ho detto voglio ho detto voglio no questa era la parte su mode strike davvero un gioco morto malissimo forse quello che è peggiorato di youtube nella storia dei videogiochi per dire cioè era un gioco divertente adesso la gente gioca con 600 di vita quindi siamo ai livelli di idiozia della mira automatica per tutti obbligatoria su red dead 2 online siamo questi livelli qui però almeno qui la mira non è automatica per dire quindi forse è meglio e stavo giocando con l'f2000 non con un'arma di merda a livello 1 quindi con un'arma penso che con un'arma a livello 1 per ammazzarne uno devi sparare tipo 4 caricatori forse poi muore pazzesco i prossimi tre giochi sarò con kevin l'ultimo sarò di nuovo da solo siamo a due kill e una morte è un miracolo avere fatto due kill e una morte su mode strike quindi siamo rimasti sul giusto kill death radio pazzesco ecco che vi farà da testimone di veridicità del video sostanzialmente comunque se ti spiego come funziona e cosa è successo allora bla 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 e hanno messo l'interno e noi dove andremo per farla appena molesta questo gioco ridicolo che non ha colpe di persino ma è un po passato esatto allora è successo un casino spieghiamo brevemente successo praticamente avevamo vinto due partite di fila su battle lands e prime due che ho perso adesso c'è adesso c'è quella dopo le due vittorie di fila che non contiamo ovviamente sono perse però dopo questa partita qua che vedete dobbiamo registrare quelle che abbiamo perso prima quindi è una roba pazzesca comunque aiuto 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 non mentre qualcuno senza lingua c'è un fucile a pompa fuori c'è un fucile a pompa fuori vado a premere poi entro dentro capito non è possibile prendere lo scudo prima di mai ma non c'è niente in casa andiamo dentro in casa subito senza farci vedere veloce è pieno di kit medici in casa ma un biondino ci ha visto che un cecchino metto qui speriamo che si chiude da noi la zona vediamo sì quando mai e quando mai porca troia dai c'è che schifo ma non possiamo uscire abbiamo l'airdrop non possiamo uscire aspettiamo che il tizio dell'airdrop entri dentro sì e poi e poi cosa altra vuoi dai oh non entra nessuno seriamente l'hanno preso bastardi questo è un ricevuto 3 p manza nel passato eccolo fuoco ha riconsiderato ma riconsiderato ha riconsiderato lo schifoso no rialimami veloce che schifo anche quello ha riconsiderato dal biondino nei cespoli prendo questo prendo questo che schifo ha riconsiderato lo schifoso di prima che era scappato tra l'altro ma dal cecchino di escasperato cos'è la carne oh cos'è la carne non è la carne è la bandiera via 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 lo schifoso che è riconsiderato sta tornando devi rianimarmi devi rianimarmi non posso sono morto così per la zona che schifo quelli che riconsiderano no non parti a ammazzare dal biondino eh fai per devi uccidere per me un pelato devi uccidere questo è proprio scemo è proprio scemo è un biondino se gli aspetti oddio gli skin gli scioppini gli sciopponi che schifo scappa Kevin ahhh ti vogliono fare manzo vai dentro una casa dentro una casa ma come sono morti così comunque hai visto quelli che hanno riconsiderato che sono entrati hanno riconsiderato addirittura uno camminava addosso all'altro pur di uscire che schifo mamma mia bene qua si parte bene cool do not connect bene non lo so bene cioè questa è la schermata ovvero la macchina lì l'erba che si muove e niente sulla schermata connecting puntini puntini bello bene è squalificato no se non è squalificato se cerco nello store dai non ci credo che hanno messo due versioni che palle non sanno fare un cazzo quelli dell'xbox ha bisogno di 4g cioè ma perché c'è la versione rotta ma perché no ma davvero ok quindi l'altro gioco ridicolo si sta auto imponendo te lo dico non è che sto qui ad aspettare che me lo scarica allora ricapitolando pubg c'è una versione rotta che me l'hanno fatta scaricare quella dell'xbox perché sono dei falliti quindi trattandosi di un gioco fallito ci sono trovati bene le due aziende diciamo e rainbow six si sta auto imponendo sulla situazione non è neanche più in esclusiva siamo sul gioco ridicolo che vincerà sicuramente il sondaggio non lo so attenzione il nuovo il nuovo caricamento wow hanno messo i marocchini cazzo hanno messo gli arabici i senegalesi non è i marocchini hai detto bene sono che non sono divertenti da giocare sono migliorati c'è questi stronzi basta che mettevano come questo attenzione bella belli anche i 30 fps belli e vieni vieni qua che entriamo ripuliamo ah c'ho la bitch c'ho la bitch attenzione mamma mia oh go go wow sono buttata per te no parole dove sei messo da lì ci stavano delle scale e qui posso vedere un kamikaze da dietro morto morto bella ho fatto un riscaldamento ho fatto allora Kevin eccoci Eccoci dovremmo rimasti siamo morti male con quelli che volevano Cioè no non è che siamo morti male con quelli che volevano, la zona ci ha ucciso Ora per rendere un minimo di giustizia a Wattelands dobbiamo vincere a tutti i costi a Kain Assolutamente almeno una Almeno una veramente Perché non è giusto cazzo, l'abbiamo vinta due a far essere la registrazione Cazzo Guarda che schifo Infatti ci sono nuove richieste ovviamente no? Perché abbiamo vinto Infatti ci sono state nuove richieste Ok? Vogliamo proprio essere richiesti Ci stifo poi con la richiesta sotto perché vinciamo madonna E siamo sempre scuonati nelle tre partite sempre qui Due volte abbiamo vinto e una volta abbiamo perso Qua di prima col tizio che ha riconsiderato che schifo Vabbè Stiamo calmi Siamo andati indietro No 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 Sì 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 Uh c'è il fucile a pompa come prima Esattamente come prima C'è un tipo che vuole interiare in casa C'è anche uno scudo però non vorrei farlo prendere a questi pezzi È entrato uno mi sa Aspetta 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 Non entrare Kevin Non entrare aspetta Mi sono tenuto Mi sono già entrato e devono essere questo tipo Che si stava incontrando la roba Dai che palle Adesso non conta dai Mi sono in conto cazzo Schifo Ma io non vedo quello che succede Mi laggava Quelli lì con il barretto io non li ho Ma guarda va a scatti Ovviamente sta qui Sta qui non conta dai che cazzo è Ci meritiamo di averlo Gente non mi crede mai quando io dico che va a scatti però Capisco Ok dai stiamo calmi Perché anch'io non crederei però Davvero È grave la mia fiducia Io te lo dico Quello di che eri considerato l'altra volta O anche questo tipo il barretto Insomma è una skin che odio Quella che odio di tutti Perché sono quelli che vogliono e ottengono ogni tanto Mi fanno schifo Sono i noi pelati No non sono i noi pelati Semplicemente io voglio trovare i pelati Perché dobbiamo abbandonare sto gioco uccidendo un pelato Dai Che cazzo sono i pelati Bastardi Magari Che schifo Che schifo Aspetta a entrare Aspetta a entrare Aspetta a entrare Che vuole Ok un tipo l'ha tirato Sì ci sarà entrato un tizio Sì 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 È entrato un tizio Che schifo Ok Ok è morto male Prendi il fucile a pompa e camperiamo qua Non c'ho lo pietro A te prendo lo scar Merda Che schifo Guarda lo strisciante Eh è quello mio Biondino 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 Attenzione Fermo Eccolo entra Guarda che entra Che schifo Ah si è messo alla porta Che schifo E chi sparava Sapeva dove È l'amico del culo È l'amico del culo secondo te Certo è l'amico del culo Uccidiamolo Schifoso No il mio è l'amico del culo L'ha ucciso Cazzo Torniamo dentro Torniamo dentro La gente che vede tre bandiere dell'hamburger Se non a te si fa due domande No Che schifo Dov'è che era la zona? Ok siamo dentro Siamo dentro Dai 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 Io voglio vedere uno Se vengono vengono dal lato Oh il mio andino Che schifo Guarda eh Guarda guarda Che schifo foto Ah 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 Vicchia come l'abbiamo ucciso Oh my god Senti che prendo la k Perché ho 18 colpi Dello scar Madonna Non è neanche il fatto In tempo a vederci Che era morto Stiamo facendo molto schifo eh Oh c'è uno Il pelato Il pelato Il pelato Uccidi il pelato Uccidi Ha riconsiderato Il pelato di merda No no fa il culo Tu muori Inseguilo Il pelato di merda Schifoso Che riconsidera Inseguilo Schifoso Col fiscito a pompa oro Sì sì certo amico L'amico del culo biondo Occhio Ma no Sbaglio del biondo Il nostro obiettivo Era il pelato Eh lo so È che Andiamo a prendere il pelato Scappa 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 Ok vai prende il kit Prendi il kit Veloce Dove cazzo è andato Il pelato di merda Dove è andato Corri giù Corri giù Ci prende la zona Merda Ci sono quelli che vogliono Ok mi stai attento Merda ti devo abbandonare Eh lo so Ci vediamo dall'altra parte Io gli aspetto al varco Però questi eh Ok uno l'ho preso Lo schifoso C'è il pelato Che si sta riprendendo la vita Eh te lo dico Ok presi tutti Il pelato mi vuole Il pelato mi vuole Muori schifoso Ok dammi il fucile a favore Oh io ho fatto un miracolo Per sopravvivere Non so come ho fatto Ho fatto un miracolo vero Abbiamo ucciso il pelato Si Era destino Che dovevo perdere il gameplay Era destino Perché non avevano trovato I pelati L'altra volta Che schifo Che schifo Che schifo Oddio Il cappellino Più lo schifoso Col berretto Aspetta c'è Ma c'è altre gente Vado a prendere Attenzione eh Ti dispiace prenderlo Dobbiamo partire in boscata Prendi il kit medico Prendi il kit medico Per favore Non serve di più a te Porca puttana Si è sparato addosso L'ho ucciso Un figlio L'ho ucciso Oh mio dio Cosa ho fatto No però da solo contro due Non ce la farò mai Kevin Beh si mettono in linea magari Ma vaffanculo Sto figlio di puttana Ma quanta cazzo di vita Avevano sti due froci di merda La poliziotta ci ha preso Ti rendi conto Sto shoppato Ah ma il pelato è nostro Non mi importa Kevin mi usi lo scudo Per proteggermi o no Sto volendo Sto volendo Sto volendo Sto volendo Sto volendo Ah bene Deciderò Deciderò Prenderò La sua Ti prego una mappa carina Che ci dà l'addio Non una mappa di merda schifosa Questa volta siamo noi A uccidere Rainbow Six Non è No Qualsiasi cosa esca ok Non è Rainbow Six Uccidere noi stavolta Stavolta siamo noi a uccidere Rainbow Six Mi spiace cazzo Favelas Favelas mi piace Mi piace Favelas La mappa che abbiamo tolta perché era sbilanciata ma l'hanno lasciata uguale scommetto Guarda guarda Ci sono i fuochi d'articchice Esatto perché stiamo andando via da sto gioco di merda Ecco perché Vabbè se vinciamo tutti i round facendo 3 a 0 No Non posso volere Non posso volere Se facciamo 3 a 0 Invece voglio Ah cazzo Se facciamo 3 a 0 Io non muoio Facciamo anche un'altra mappa Kevin Ah già Sono 40 secondi da schifare Ok Kevin Questo è il nostro ultimo spawn Per favore Dragon Non corri da dentro il frost Ragazzo Vediamo Kevin Mi ricordo che c'è anche gente che ti spara Ah mi sparano dici Con la killer spawn Vabbè vorrà dire che morirà con una killer spawn Tanto rappresenterebbe bene il gioco Lei è pronto si Sì Vai Con le flashbang Non so neanche perché Che schifo Wow Headshot Cazzo di merda Cazzo che fine di merda che ha fatto Stava mettendo la barriera Si stava volendo Stava volendo male Ok io voglio entrare Vai entra Ti lancio un flash Grazie Vedermi flashato Ora che esco da dietro io Entro Entro con te Kevin Spalla Non vuoi essere così forte Dopo 5 mesi che non ci gioco Spalla un razzetto Là per terra Dai Siamo soltanto noi due Te lo dico No c'è un tizio Ah no è morto Mi spari a questo Fermo fermo si muove Non so se si sta spostando in posizione Eccolo Mamma mia Che schifo voleva Stava volendo Stava volendo Che cos'è che stava volendo Stava volendo 3 kill io 2 kill Kevin Mamma mia Mamma mia Possiamo montarlo come full team Esatto Full team questo Cazzo uso in difesa adesso Non me l'aspettavo di arrivare al secondo round Anch'io No Frost È giusto È giusto chiudere in bellezza Sì sì Rainbow Six Sai che Rainbow Six Facendoci fare Facendoci fare ste kill Sta volendo Sta chiedendo pietà Tipo non Sta volendo Sta volendo Esatto Guarda che poi Se dice sta cosa si incazza Sta volendo Sta chiedendo pietà Tipo non mi disinstallare Giocate ancora con me Anche per la season 4 Non mi disinstallare Anche per la season 4 Ma sai che ti ho installato apposta Per mandarti a fare in tira Esatto Anche per la season 4 Please Please E invece no E invece no Te l'ho detto Se mi fai fare un full team Se mi fai fare un full team Forse Ti considero Ma ne dubito Scherzo ovviamente Ma La decisione è stata presa a monte Ovviamente Però sta volendo Sta chiedendo pietà Che schifo E lo sappiamo benissimo Che se torniamo a giocarlo Che schifo È un gioco di me Lo sappiamo benissimo Che se torniamo Sì torniamo a giocarlo Ci impula di nuovo Esatto Ma non poco eh Vuol dire che non ci fa fare neanche una kill E ci fa laggare Non ha fatto assolutamente nulla io Tu? Ho fatto assist uccisione io Ha fatto un full team Quello lì 4 team ha fatto Erano in 4 loro Guarda ovviamente Con l'MP7 Strano Certo prima Polaccio quello di prima Appena ha tolto la barrica Però ti ha preso Un legge Ma stava togliendo Mettendo Non ho capito Stava togliendo Per mettere Che schifo E quando gli hai sparato Stava mettendo Non è mai successo Tra l'altro Io non ho mai visto una scena così La sta mettendo di nuovo Nello stesso punto Che non se l'aspettava Ecco Quella non se l'aspettava C'è una trappola di frost Appena fuori dalla porta Quindi non possiamo uscire subito Ok Nella stanza accanto Non c'è nessuno Quella Accanto proprio Sinistra? Hanno fatto un buco nel muro Qui dove C'è soltanto lo schifoso Di smoke Nella stanza A sinistra? Stai parlando a sinistra? Sì Sto parlando a sinistra Adesso butto il fumo lì Butto il fumo lì E fusciamolo Cazzo dici? Sto a entrare una trappola Che mi mi rianimi Torna indietro Che mi rianimami Non posso Lei chiede E' la morte più di merda Che abbia mai visto questa Ma tu non l'avevi vista la trappola? Sì l'ho vista Te l'avevo anche detta Bene C'è una trappola di frost Appena fuori dalla porta Sì ma io pensavo a sinistra Non appena fuori Perché tu non l'hai presa Io sì? Perché io sono questo a destra Cazzo Kevin Però dai Non posso fare una fine così No Che fine di merda Ecco questo è quello E' la risposta Che ci dà Rainbow Six L'intelligenza Ecco Rainbow Six che voleva Che è stato scoperto E' quello che risponde lui Dopo essere stato scoperto Ovvero una morte di merda Ovvero quello che ci aspetterebbe Se prendessimo di nuovo Sul serio sto gioco Ovviamente devo andare nella neve Così manteniamo il clima natalizio L'unico gioco che l'ha proposto Il clima natalizio Insieme a Battlelands Prima Battlelands Poi Fortnite Quindi in questo caso È stato Fortnite A copiare Battlelands Non mi trovo alla partita Stanno andando tutti i problemi Non vogliono morire Kevin Non vogliono morire Rainbow non ha dato i problemi Ti ha fatto credere di vincere Oh ce l'ha fatta Forse dopo 40 secondi Forse ha trovato il server In attesa del server Dice Madonna ci ha messo 20 anni A caricare Kevin Non vogliono morire sti giochi Ci vogliono prendere per sfinimento Guarda non vede neanche l'omino Scusate che ringrazia L'autobus per tutte le volte Cazzata Vai 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 Cioè Mi costava troppo Fare tutta la mappa innevata Devono fare le differenze Certo C'è un aero Kevin Certo ti rendi conto di quanto è ridicola L'affermazione che c'è un aero su quel gioco lì Sì mi rende conto No così non posso sopravvivere Te lo dico C'è uno che mi sa che è sponato Sì è sponato dalla piaga sul cielo Cioè senti quante frasi ridicole di seguito? Sì Sono entrato nella discoteca Kevin Stai sentendo quante frasi ridicole Sto disegno di seguito? Sì Mi sorprende che riesci ancora a parlare Se qualcuno entra mi fa fare una fine proprio di merda Mamma mia Dopo questa posso anche morire con zero kill Puoi sempre vincere con zero kill Sto camperando È successo Nella discoteca io Nell'attesa io metterei la clip di quella che voleva con l'aero Kevin Che dice? Questo vuol dire volere Ma è volere in fin di meno La kill del tizio che voleva ovviamente non conta Ma se spacco le casse secondo te la smette la musica della discoteca? Può Ma non è Rainbow Six Ho spaccato tutte le casse e punti nella musica Mi sa che ho sentito qualcosa Mi sa che c'è un taglialegna Kevin Non devo farmi vedere Eccolo il taglialegno l'ho visto Ho trovato un taglialegno Guardalo 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 che costruisce appena gli spari Non c'erano dubbi ovviamente Dai che schiattite a poco te lo dico Vedo un tizio Te lo dico non sopravviverai Al prossimo tre ingaggi Te lo dico Inizio a sentirmi male C'ho ancora centocento Oh per dire un cazzo e lo sai La sa benissimo Mi ha preso davvero dentro il container questo Stiamo scherzando No no è uno scherzo questo Kevin Sono a 43 di vita Con un cecchino mi ha salto così tanto Incredibile un toy Posso tornare a 150 però Ma credo che mi sta venendo a prendere Sì ha preso il fucile a pompa L'ho ucciso Questo ha voluto tutto Kevin Ha voluto tutto È voluto venirmi a prendere Non ci credo Kevin che ha voluto così tanto questo Ti voleva assolutamente Mi voleva assolutamente Io l'ho ammazzato con l'MP5 Ti voleva scartare come una caramella Aspetta aspetta Kevin Siamo rimasti in set Fammi ragionare Ha piazzato una trappola Oh cazzo Mi hanno sparato una bazooka Non posso saltare la casetta Ma dai che gioco ridicolo Un'altra fine ingloriosa Immagino immagino Allora abbiamo dato la skin per lo scar Per averlo da un anno il gioco Grazie anche a me Per avermi ringraziato Per aver fatto il beta tester Non c'è un signore di continuare a giocare Esatto Perché nella mappa mini Va sempre male L'ultima volta che siamo andati è andata male È andata a maglie Tanto quello che viene viene Tanto me ne vado Qua moriremo molto male Oppure anche questo gioco vorrà Certo che sì Come Rengo 6 Secondo te? No 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 Non vuole Infatti PUBG non vuole Non vuole Ecco perché sta modendo Infatti PUBG non vuole più di tanto effettivamente Eh volevi andare su una mappa diversa da sta merda qui Volevi Sì volevo Invece no La mappa innevata la mettono quando sarà estate Complimenti bravi Continuate così Ma no ma inizia pure anche fra due ore la partita C'è cazzo mene In fondo non è l'ultima volta che ti avvio Tanto vorrà anche questo No questo gioco non vorrà Ci ammazzeranno come stronzi Come cade sempre Tranquillo Assolutamente Capace che moriamo in aria Ti sta bene? Ah Ok Tanto la zona finirà dall'altra parte Merda vale l'altra Cazzo non è rimasto nessuno sull'air Guarda i nerd sono già scesi tutti No che brutto Infatti dobbiamo scendere anche noi tra pochissimo Tipo ora Sì sì scendere Siamo gli ultimi due a scendere cazzo Andiamo a camp bravo va Oh continuiamo Ma no 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 Cazzo è L'MK47 Mutant Seriamente Cazzo L'arma è L'arma nuova Mi sa Oh my gosh Andiamo a Monnay Ok Andiamo A Mungnay Ma è un stranzo io Vediamo Non l'avrei mai detto Wow Non l'avrei mai detto neanch'io Pensai di essere simpatico il gioco Oh la c'è un airdrop però Lo andiamo a prendere Sì certo L'ultima volta è andata bene Però ti comoriamo appunto Io neanche voi devo stare Secondo me la gente non l'ha neanche visto Bugia Bugia Sì che l'ha visto Andiamo via Vabbè ormai andiamo a vedere Quella è la direzione Ormai andiamo a vedere Ma quella è la direzione Dove dobbiamo andare per forza Quindi non esce Magari non curiamo in mezzo alla strada Perché la destra nel cantiere ne ho visti due E tu me lo dici adesso Bravo 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 Eh l'ho appena visto adesso Appena li ho visti te l'ho detto Pacco viveri vediamo L'MK14 c'è Se ti interessa Al posto del car Non capisco Tu prendi sempre tu Al posto del car se ti interessa prendilo Che schifo stai volendo No Che bello Grazie tempo Non è uno dei cespugli dritto davanti Dove sto adesso Strano che ne cespugli Cioè non ha senso Non ha senso giocare Ho lanciato una granata Beh Scappa Kevin scappa Non c'è modo Non c'è modo di vincere Basta io chiedo il gioco Aspetta guardami oramai Guardami Giuro veramente Questo gioco non diverte Il gioco è chiuso Mi spiace Sapevo che sarebbe andato male E lo sapevamo che andava male Lo sapevamo Mezz'ora a luttare E un colpo a morte E non sai neanche da dove Che schifo Ha cercato Ha cercato No 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 Sta bene così Sta bene così Anzi lo disinstallo Qui e ora Kevin Io non ho sparato neanche un colpo Tanto che spari e fai colpi loro Non li prendono Tanto se ti sparano loro sono invisibili Sono sconvolto Ha disinstallato Tu non ci credi ma è così Aspetta io sono curioso Di fare una partita da solo E sponare subito Vedere quanto è duro Comunque dai Io credo che il killer ratio Sia superiore a 2 Di preciso non lo so Ma lo scriveremo Kevin cosa ne pensi Di questa esperienza Dei giochi ridicoli Da abbandonare Ridicola Qual è la tua classifica Il peggiore di tutti Sto player Cioè Alla fine Battlelands È Battlelands Non è niente di che Cioè Non ha fatto niente di male Vabbè Io il voto Lo do A PUBG Come gioco ridicolo Pi di tutti Se la giocano davvero Se la giocano Assolutamente Se la giocano davvero Insieme a A Modern Strike A Rainbow Six Però A Modern Strike E là in fondo Lo sapevamo Free to play Quindi è un gioco di merda Prima o poi Il problema è che è arrivato Molto prima È ridicolo per me Battlelands È ridicolo per i cittadini Per l'attima Basta Cioè Tutto lì Così vanno le partite Su player Tu spawni Tutti un po' Ci prendi le corazze Prendi le casche Dato un colpo muori Loro non li prenderai mai Spesso non li vedi Tutto così Ma era davvero scontato Io il mio voto Del gioco ridicolo Lo do a PUBG Io comunque Non lo do a Rainbow Six Tu? Penso uguale Ma non è neanche ridicolo È una merda di gioco Punto Comunque penso È un gioco di merda Rainbow è un gioco di merda Frega non È una merda di gioco Non diverte Punto Io pensavo comunque Di fare così Ovviamente si possono votare Cioè Mettere una classifica Di questi 5 giochi ridicoli Il Diciamo Il quinto Che è il meno ridicolo di tutti Fa 0 punti Il quarto Fa 1 punto Il terzo Fa 2 punti Il secondo Fa 3 punti E il primo Fa 4 punti Pensavo a una roba del genere Vabbè Poi voteremo anche noi Nei commenti Ho ammazzato uno Kevin Incredibile Con l'ultimo colpo Peccato che non conta un cazzo Vabbè Sto lottando tutto Get the force kill of the match Minchia Non l'avevo mai fatto Mini royale Ma non importa Che è mini royale Il punto è che va male Punto Perché è il gioco Che va male No però mi spiace Non sai giocare Mi spiace che non siamo andati nella mappa Non voglio dover imparare Un gioco di mecca Mi spiace Mi spiace che non siamo andati nella mappa in Russia Però è la prima Uh Ho trovato Di nuovo il fucile di prima Magari adesso non riesco a giocare Kevin vuoi ridere? Ho trovato Uno zaino livello 3 Ce l'ho già È innovativa Se perché non stai ridendo Il gameplay della mappa Troppo ridifisco oggi Madonna Cioè ti ribalti sempre È un ritardato Quello che non sa guidare Wow Questa cosa è stata innovativa però Se in realtà Kevin riuscirà a giocarla stavolta L'arma nuova Tu lo sai quanto mi piace quel gioco C'è un tizio L'ho ucciso Incredibile No no Scontro frontale Non ci credevo neanch'io Con l'ultimo colpo poi Perché altro è bella l'atmosfera Deserto con la pioggia Ne vedo uno Sta facendo zigzag Perché gli sto sparando Kevin Wow Stanno sparando da dietro Vorrei costruire Che novità Vorrei costruire ma non si può No signori no Un'altra bella fine Che cazzo è stato Il gadget Delativa Che ha buttato a terra qualcosa Cazzo potevo farmi una doppia C'è mancato davvero poco Sono Thatcher e Preso Mamma mia Mamma mia Mamma mia Attenzione Questa è un extra Mi avevo passato un po' la vita No però non si è meritato Un'altra mappa Mi spiace Mercon Di nuovo 4 assist Allora facciamo così Se la mappa che viene È bella La facciamo Se no chiudiamo qua Non ha spumato nessuno Ovviamente Ovviamente Armi di merda Dentro la casa Vieni qua C'è un biondino Che rompe i coglioni Però io ce la metti 5 Tu no Coglione Muori stronzo Ci mancava solo che vinceva lui Non è il p5 È molto più forte È il p5 normale Dove vogliamo andare Senza gli scudi Dentro la casa Iniziale Vabbè più sicurezza Tanto i colpi ce l'ho Oh my Il biondino che vuole Io me lo campeto qua Il biondino che vuole Lascialo andare Un altro biondino che vuole Che schifo i biondini Madonna Ci sono tutti di scudo Bravi Sì Andiamo dentro la casa Vieni dentro Vieni dentro Vieni dentro Gli spari un misto Stavolta Stavolta deve essere epica Sta vittoria Non mi frega Un cazzo La voglio perdere Kevin Non la voglio perdere Abbiamo un bazzucco Dai ti prego entri dentro Vi prego entriate Eccolo Pelato di merda Prendere sti pezzi di merda Eh però sei andato Lato che sei beccato il bazzucco in faccia Madonna Rientra nelle clip Non se lo aspettava Eh questo Ah i biondini Scappa Torna dentro Torna dentro Torna dentro Aspettiamoli Vediamo se il biondino vuole Ma cazzo Aspetta devo cambiare Oddio si chiude qua Si sta chiedendo qua Che Vabbè non è fai che schifo lo scara Il biondino vuole Te lo dico Che schifo sto volendo Sono amici del culo Sono amici del culo Quanti cazzo di biondini ci sono Invasione dei biondini Te voglio vedere Guarda che c'è gente fuori dalla porta Anche di là Ma tu guarda la porta destra Io guardo quella dove sparo sempre i razzi Io rimango dentro la casa Io non mi prendo un cazzo Ecco la vendetta contro quelli lì Potrebbe arrivare Aspetta Bella Vendetta questa Questa è stata una vendetta Spalla vicino alla porta Spalla la porta No Mi ha sacrificato Kevin Mi devi aiutare Aiutami Kevin È morto No ma che se riparo No Sì No 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 Secondi non ci credo Non ci credo Vai vai Entra figlio di puttana vai Uh Un'altra ne riconsidera Questi qua sono esperti Nel riconsiderare le cose Vaffanculo va Sono esperti Nel riconsiderare questi Striscia via Schifoso Striscia Eh andiamo via da lì Ormai basta Eh sì tu dici Guarda che schifo Ce ne siamo andati Non c'è quello che è arrivato Io lo sapevo Lo sapevo Però non è arrivato Lo sapevo Pelato Ma io mi prendo le tipe Mi sono preso le tipe Andiamo via Sì sai cosa porta L'airdrop no Sì Pelato I pelati prima Come ti consigliano i pelati Grazie Questo è un bel regalo Battlelands è un bel regalo Non l'ho mai visto Cazzo Andiamo ad ammazzare Quelli all'airdrop Tanto ci sarà il pelato Aia aia Sapevo che c'era il pelato Lo sapevo che c'era il pelato Cazzo toglie 25 Kevin Kevin toglie 25 Anzi che 20 con la oro Sono rimasto con i pugni Uccidiamo il negro Ok adesso basta Abbiamo avuto la nostra vittoria Ce l'abbiamo fatta È incredibile Porca puttana Siamo riusciti anche a trovare Il quad Balzucca Era tutto programmato Che l'ho spammato molto Tutto programmato Il pelato E l'arma che ci mancava da trovare Si chiude in bellezza Combatlands È stato un grandio Quindi non vincerà mai Il premio gioco ridicolo Sostanzialmente Perché non lo è È ridicolo a modo suo Ma non è ai livelli Degli altri ridicoli Che sono esagerati Cioè È ingiocabile Mi spiace che sia morto davvero così male 595 di vita Ma che senso ha Avete visto che cosa triste Qui è un pezzo di video extra Che metto a fine del video Ovviamente Voglio fare una kill Desert Eagle Porca puttana Cazzo spari all'alleato Un coglionuto di un gioco Guardate è ingiocabile Incredibile Scrive l'ho ammazzato però Cioè guarda Scrive è una sequenza extra Che è a fine del video È diventato davvero male Bruttissimo gioco È diventato Cioè Un gioco di merda Cioè una siringa Mi dà 200 di vita Sostanzialmente L'altra siringa Devo aspettare 20 secondi Eh Non so perché hanno fatto Sta cagata qua Su sto gioco Non me lo spiegherò mai Non fanno ridere Neanche i tizi Che sono un cappello Di Babbo Natale Non fanno ridere Per un cazzo È un miracolo Che ho fatto due kill Sul pezzo del video Sostanzialmente È un miracolo vero e proprio Usciamo dalla banca E uccidiamo i poliziotti Dai Oh cazzo Cioè È ridicolo È ridicolo Stiamo a sto video Stando troppo lungo Mi sa che dovrò Splittarlo in due Hai idea di quanto è brutto Il tuo personaggio? Sì Sì Ce l'ho perfettamente presente Ma sporgiti senza mirare Ah non puoi Bello Mi sa che moriremo Sto round allora Che schifo Juckal Stava seguendo i miei passi Che schifo Questo voleva Che schifo Sì ma questo voleva Kevin Voleva di brutto Occhio a Buck Quello vedo Ah Ash l'ho ucciso Prima di morire L'ho ucciso Ash Questo è l'importante No come scambio bare Che schifo Scambio bare Boom Chiudi Chiudi tutto Lo scambio bare Non si può vedere In un gioco dove non c'è Lo respawno Non si può vedere Lo scambio bare Soprattutto di fucile Dai Ma che cazzo è È interessante sta cosa Kevin Sono morto Uccidendo lo schifo Cioè Ash Non male Che solo adesso Iniziano a lamentarsi E quelli che si lamentano Vengono detti No non è vero Ash è bilanciato Andate a fare in culo Un po' me Un po' me